Sempre Fossano, il castello ci siamo spostati di qualche metro e hanno montato anche un palco per noi, perché noi vogliamo il palco. Per parlare di un altro progetto, anzi ho detto di tantissimi progetti, diciamo per toccare tutti ci vogliono almeno un paio di mesi in interrotti di trasmissione, 24 ore al giorno, ma arriveremo anche a questo. Adesso parliamo del tuo ultimo CID, che non è stato un incidente, un CD. Finalmente dopo tantissimi anni, perché dopo 20 anni di attività mi sono messo in discussione portando proprio come compimento questo lavoro dal titolo Aria. È un CD che racchiude un anno della mia vita trascorsa, dove racconto con i suoni, con quello che secondo me è il mio modo di cantare, la mia vita. Passando su vari temi, quindi tendenzialmente, ultimamente sto affrontando la creazione delle progettualità mettendo all'interno tantissime arti, dalla fotografia alla danza. Quindi anche i miei concerti, ma anche all'interno del CD ci stanno delle poesie, non sono dislegate da quello che è, secondo me, il concetto artistico, c'è una commissione di più arti all'interno. Quindi questo CD è qualcosa che io definirei opera, semplicemente perché racchiude tutta la mia sofferenza, tutte le mie battaglie, tutto quello che è stato il mio percorso di vita. Naturalmente non è un CD commerciale, nel senso che all'interno ci sono strutture di sperimentazione vocale, dove c'è un po' di tutto, del mio percorso artistico. Ci sono degli omaggi a Bobby McFerrin, che mi ha dato comunque la, tra virgolette, musicale per poter avere anche forza di trasmettere agli altri quello che è il mio pensiero artistico. Poi ci sono dei brani dedicati alla spiritualità, anche il concetto di spiritualità, che secondo me è forte all'interno della musica. Ci sono brani dedicati all'aria, all'essenza che ci permette di vivere, ecco perché il titolo del CD è il titolo del brano proprio che prende anche, che dà forma proprio a questo concetto, il respiro, che per me è parte integrante anche nella pedagogia, non solo che per me è parte di vivere, ecco perché per me è parte di vivere, ecco perché 9 Alla, Alla, Alla Signore, Alla, Alla Signore, Alla, Alla Signore, 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 All Ti sei circondato di altri artisti come supporto alla tua voce, anche se abbiamo avuto l'occasione, oggi pomeriggio di ascoltare già da solo, insomma ha già un bel pieno di emozioni. Allora ci sarà un percussionista Pietro Ponzone, l'arrangiatore del disco e tastierista Massimo Celsi, poi ci saranno quattro coristi Cristina Rulfi, Ilaria Lorefice, Marco Forgione che fa anche batteria vocale e Guido Giordana. Naturalmente ci sarà anche delle proiezioni video coordinate da chi ha curato la grafica sia del CD che dello spettacolo, anche a livello proprio di bootleg, che si chiama Luigi De Frenza, che il suo sito è www.experia.com, che ha dato forza alla visual art, quindi questo concerto non è solo musica ma è anche immagini. E andiamo ad incontrare, a conoscere l'istituto in cui tu insegni ad usare la voce, anche i neonati quando fanno uè, fammi il neonato. Neonato, neonato, Daniele? Neonato, comba? Neonato. Neonato? Neonato, manco, Grazie a tutti. Grazie a tutti.